Per me è stato il posto più bello del mondo, io ho passato tutta la giornata sempre lì, vacanze mai viste, però sono stata bene perché era con la mia famiglia e sono felice come sono arrivata adesso. Sì, ovviamente abbiamo accolto nella casa comunale con molti piacere la signora Fiorella perché rappresenta un pezzo di storia di questa città, suo marito che conosco bene, che tanti anni ha gestito assieme a lei l'attività e le figlie che la proseguono idealmente. Io sono molto orgoglioso di portare i premiati oggi perché rappresentano la città di Castello, rappresentano il centro storico, soprattutto rappresentano un modo di accogliere le persone, i clienti molto umano in tempi in cui anche le attività si spersonalizzano invece questa presenza è significativa e va premiata e ringraziata per quello che ha fatto nel corso di tanti anni, più di 50. Grazie signor sindaco, molto gentile.